ciao a tutti ragazzi e benvenuto a un nuovo video dell'impero delle tenebre eccomi qua a fare un nuovo unboxing dedicato a un Gunpla SD che appunto va a rivisitare il personaggio di Naoe Kagetsuna in stile Gundam si tratta appunto di un personaggio storico giapponese reso famoso non tanto dalla storia perché per noi occidentali è sconosciuto ma diciamo l'abbiamo visto e giocato nei vari Samurai Warrior e Sengoku Basara quindi almeno io l'ho conosciuto inizialmente così ed è uno di quei personaggi strani dedicati diciamo all'onore con quest'elmo particolare con il simbolo della casata appunto che viene riproposto in questa versione appunto di Gundam SD San Goku Den con un modellino davvero carino si tratta di un modellino anche abbastanza vecchiotto qua non so se riesce a inquadrarlo bene è del 2009 ed è appunto un di quegli SD con il corpo centrale a cui poi va aggiunta l'armatura quindi teoricamente intercambiabili ma in realtà no perché poi la vera e propria forma è quella completa di armatura e nonostante le piccole dimensioni della scatola la componentistica è davvero discreta infatti per essere comunque un SD vecchio stile anche delle clear parts ha un molding di diverso colore anche proprio lo sprue multicolor la qualità dei dettagli non è celsa perché è ancora uno di quegli SD ibridi vecchio stile soprattutto per la qualità del corpo base che è davvero molto statica è molto cicciotto per così dire e le gambe e le braccia sono praticamente fisse a differenza dei nuovi modelli che vanno anche a dare mobilità o alle gambe o alle braccia a seconda della serie questo prevede l'uso di polycap di vecchia generazione che comunque fanno il loro lavoro per far agganciare i pezzi più che altro perché come dicevo poi la mobilità in sé è davvero minima ci sono comunque almeno per il viso un altro paio di dettagli diciamo in rilievo che possono essere colorati da chi vuole andare a personalizzare che comunque questo è un modello abbastanza easy la cosa a mio avviso da fare subito sarebbe colorargli le spade perché quelle effettivamente hanno un impatto visivo notevole una volta che il modello è finito il resto invece basta magari un po' di marker o comunque qualche rifinitura lieve e poi lasciarlo così infatti ci sono anche qua per l'elmo come dicevo particolare con la cresta con il simbolo la parte in gold però gloss quindi diciamo di rifinitura normale e un bel po' di adesivi per andare a dare certe tonalità di colore e dettagli al modello che comunque come dicevo ha dei bei dettagli in rilievo quindi si possono andare a colorare a mano andando ad allungare notevolmente la costruzione del pezzo il model kit in sé è semplice però essendo un modello di vecchia generazione come dicevo ha il manuale completamente in giapponese ed è in realtà il remastered chiamiamolo così di un modello precedente infatti alcuni pezzi sono contrassegnati con delle X perché non vengono utilizzati e si vanno a sostituire con i nuovi sprù aggiuntivi quindi come dicevo praticamente il modello non ha le gambe ha giusto un pezzo che dà un minimo di mobilità a differenza appunto della primissima generazione che aveva solo i piedi attaccati al corpo questo è una seconda generazione che però permette un movimento minimo l'armatura poi da agganciare e l'effetto finale volendo dell'arma con alcune parti d'armatura per completare una sorta di option part svolazzante che fa a figura c'è la possibilità di ritagliare o meglio fotocopiare come consiglio sempre lo standard così da fare il banner appunto del clan da esporre per il resto qua c'è anche la spiegazione del personaggio come vedete viene sempre raffigurato con il suo elmo particolare e questo invece è il modello originale da cui veniva tratto quindi qua ad esempio abbiamo un modello precedente il 282 mentre questo è il 339 e Bandai riciclando comunque un po' di pezzi è andata a creare un modello che si discosta parecchio da quello originale quindi è anche carino magari averli entrambi io personalmente ho preferito questa versione proprio perché è ispirato al personaggio storico e quindi mi fa piacere avere la versione appunto samurai gundam di no è una cosa che mi fa piacere appunto collezionare i vari personaggi in stile gundam che mi piacciono dei samurai famosi quindi nobunaga o i vari appunto personaggi dedicati al romanzo dei tre regni in diverse edizioni tra l'altro e quelli in realtà del chiamiamolo panorama nipponico sono più rari soprattutto quelli ufficiali ispirati ai personaggi veri poi in realtà di gundam in stile samurai ce n'è davvero una marea soprattutto negli sd però questo mi fa piacere che sia appunto uno di quelli ispirati a un personaggio vero perciò io ve lo consiglio se anche voi siete appassionati di sia modellismo che di giappone feudale è una di quelle cose da avere è un modellino semplice da realizzare infatti se seguite il blog imperodele tenebre punto blogspot punto com troverete anche la recensione un po' di foto di come sono andata a costruire questo piccolino senza neanche troppe rifiniture giusto per averlo in collezione esposto con un po' di rifiniture per andare a migliorare quei dettagli che all'epoca venivano lasciati un po' al caso o meglio a discrezione del modellista io sono abbastanza easy quindi vado in un livello abbastanza intermedio però devo dire che mi fa piacere appunto avere questa piccola mensola di samurai gundam da collezionare perciò io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video ciao